Allora, l'ultimo talk di questa mattina è di Marco Salvo, che è consulente SEO e ha esperienza anche con le affiliazioni, con la monetizzazione tramite affiliazioni e oggi ci parlerà degli ultimi aggiornamenti di Google e di come appunto approfittarle e cercare di evitare penalizzazioni. Perfetto, lascio la parola subito a Marco. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite bene così? Io non sento, se voi mi sentite, voi mi sentite, sì, mi sentite. Innanzitutto grazie per la fiducia, siete un sacco qua dentro, quindi partiamo da questo. Grazie, quanti SEO ci sono in aula? Uno, due, tre, quattro, cinque, ok? Se io dico cavolate voi non dite niente, ok? In silenzio, poi mi dite le cose fuori. Allora, oggi io parlerò con voi di come ottenere visibilità attraverso la SEO con i contenuti e anche con i siti web. Vado io quindi, vado qua, vado giù, ok, perfetto. Innanzitutto mi presento, io mi chiamo Marco Salvo, Marco è il nome, Salvo è il cognome, 40 anni che lo dico, Marco è il nome, Salvo è il cognome. Di che cosa mi occupo? Mi occupo principalmente di SEO e di marketing, perché mi piace tanto il marketing e quindi lo studio. Vi dico, vi faccio un po' una panoramica, nel 2012 ho vinto un contest SEO a livello nazionale dove hanno partecipato anche persone di fuori, quindi non italiane, eravamo un bel po', però ci abbiamo dato dentro noi italiani, sono arrivato secondo. Da lì nel 2012 ho conosciuto l'azienda per la quale lavoro, che è questa, della Felpa, dove noi sviluppiamo plug-in per WooCommerce e li vendiamo in tutto il mondo. Lì dentro faccio SEO, fatto SEO, sono entrato come SEO, sono diventato product owner, che è responsabile del prodotto proprio a livello di marketing, pensi il prodotto, lo fai fare allo sviluppatore, dai la scheda, lo testi e poi lo metti sul mercato. E poi, insomma, altre cose che fanno parte sempre del marketing, sono un po' poliedrico rispetto al marketing, ok, marketing e SEO. Dopodiché, ovviamente, visto che so fare questa cosa, ho creato dei siti miei e monetizzo il traffico che prendo da Google e quindi a mio favore, ok? Quindi vi ho fatto un quadro per capire perché sono qua, perché vi parlo di SEO e perché sono io a parlarvi di questo. Andiamo avanti, vado veloce, è fichissima sta cosa. Allora, io ho iniziato da tanto tempo, no? E vi devo dire che prima era notevolmente più semplice posizionare un sito web all'interno di Google. Quanti sono della vecchia tacca qua? Vecchia tacca? Ah, siete pochissimi. Ok. Allora, nel 1998 Google aveva la rete, diciamo. In rete c'erano 25 milioni di pagine, ok? Per quel che dice Google, l'equivalente di delle pagine che ci sono all'interno di una piccola libreria. Ora, capite bene che avere queste pagine all'interno della rete è un gioco da ragazzi, indicizzarle e creare quello che ha creato Google fino a un certo punto in gioco da ragazzi. Ah, con, mettiamo, delle virgolette giganti accanto. Chi è che mi tiene il tempo? Nishun? Tu? Ok, me lo potrebbero dire? Già sono a stop però. Ho undici minuti, mi rimango, allora vado velocissimo. Ok, quindi entrare su Google in quel periodo era facilissimo. E perché era facilissimo? Era facilissimo perché c'era una concorrenza bassissima. Praticamente c'erano zero siti. Tu facevi un sito, ai tempi neanche se entrava su Google c'erano gli scambi link, scambi banner, request, così prendevi traffico. Poi è entrato Google, abbiamo capito che veniva traffico da là e abbiamo iniziato a posizionare i nostri siti web là dentro. C'era una concorrenza bassissima. Le nicchie erano tutte libere. Qualsiasi cosa facevi? Andava bene. E poi Google era abbastanza scarso, abbastanza scarso, soffriva nel sistema di indicizzazione e di posizionamento. Che è chiara questa situazione ma lo vedremo pian piano. Il perché. La missione di Google, intanto Google è un'azienda no? Quindi lui deve fare soldi fondamentalmente. Ma la missione di Google quando lui si è introdotto nel mercato è stata sempre una. Organizzare le informazioni del mondo, del mondo, e renderle disponibili a livello universale. Cioè, è una missione incredibile questa. Incredibile. Organizzare le informazioni del mondo e renderle disponibili a livello universale. Ora questo, questo, secondo voi, che cosa può produrre nell'immediato? Nell'immediato produce spam. Perché? Perché ci sono questi stramaledettissimi SEO, che nel momento in cui capiscono in che maniera andare a inserire un contenuto all'interno di Google, fanno spam. Fanno spam, è normale, perché hanno bisogno di monetizzare il loro traffico e quindi l'unica cosa che fanno è andare a inserire i contenuti che vogliono loro. Quindi sporcando, sporcando l'indice. L'indice sono tutte le pagine che sono posizionate all'interno di Google. Lo sporcano con lo spam. Quindi, sebbene la sua missione era quella, organizzare le informazioni nel mondo, è rimasta sempre la stessa nel tempo, purtroppo non può rimanere lo stesso nel tempo Google. Google ha bisogno di cambiare, ha bisogno di evolversi. E per questo lui ha utilizzato un approccio algoritmico. Avete mai sentito parlare dell'algoritmo di Google? Sì? No? No? Sì? Sì? Un approccio algoritmico, perché ovviamente non potevano esserci delle persone là dietro a guardare, ok, questo va bene, questo no, questo va bene, questo no. Ci sono sempre, ci sono i quality rater, ma non potevano farlo su larga scala. Lo dovevano fare per forza con un approccio algoritmo, quindi serviva codice. Nel 2011, per fare degli esempi, hanno introdotto Panda. Panda cosa andava a fare? Andava a scansionare la rete, andava a guardare quali erano tutti i contenuti di scarso valore, secondo un suo parametro, quali erano tutti i contenuti duplicati, e ti segava. Tu uscivi da Google. 2012, Penguin, tutti avevano capito che con il PageRank mettevi link a manetta su tutti i siti, su tutte le pagine, il tuo sito saliva. Quindi lo spam era ai livelli cosmici, è arrivato Penguin, tutti i siti che avevano link in quella maniera segati, tutti fuori. Nel 2013 inizia la rivoluzione. Perché? dico questo. Perché prima posizionarsi era semplice, quindi mettevi link, creavi il tuo contenuto, ti posizionavi. Dopodiché Google ha iniziato a dire, ma aspetta, la parola pesca, per esempio. La parola pesca quanti significati ha? C'è la pesca il frutto, c'è la pesca di beneficenza, c'è la pesca a mare, la pesca sui fiumi, e poi continuiamo all'interno di pesca sui fiumi, a mare, ce ne sono altre cose là dentro. E quindi ha avuto necessità di capire in che maniera le parole agivano all'interno del contesto, giusto? E quindi con la semantica ha introdotto Amminbird, il colibri, e ha iniziato a segare tutti i siti che non facevano altro che fare ancora spam a livello di contenuto. Ok? Dopodiché, 2015, RankBrain, altro algoritmo di Google. Voi dovete immaginare Google come una palla, un codice, un prototipo, che nel 98 è stato messo online. Dopodiché, questo prototipo, ovviamente, essendo prototipo, non funzionava bene. Quindi, codice su codice, mettiamo le pezze. Le chiamiamo pezze, ma non sono pezze, sono delle cose aggiuntive al core di Google. Quindi, 2015, RankBrain. RankBrain, introduciamo un concetto interessantissimo, interessantissimo, che è l'autoapprendimento. Cioè, Google inizia a capire in che maniera noi ci muoviamo all'interno e lo capisce, lo immagazzina e poi restituisce a noi che facciamo domande, perché lo utilizziamo tutti Google. Ok? Quindi, sbarca nelle SERP l'intento di ricerca. Voi sapete cosa è l'intento di ricerca? Se io cerco, voglio andare, no, voglio trovare una spiaggia a Tenerife, voglio fare il bagno a Tenerife. Secondo voi, Google cosa dovrebbe rispondere? Mi dovrebbe dare a dei posti, giusto? Dove io posso andare a fare il bagno, perché il mio intento è fare il bagno. Non mi interessa vedere la classifica dei posti migliori che ci sono sulla costa, ok? Che io potevo sfruttare anche con la ricerca posizionandomi con lo spam. In questo caso no. E in tanti ricerca ce ne sono almeno tre. Il primo è navigazionale. Quanti di voi cercano su Google, anche se conoscono il sito, e cercano il nome del sito su Google? Quanti di voi lo fanno? Quanti? Quanti? Più lo dico, più alzate le mani. Quanti? Se lo dico ancora, alzate tutti la mano. Lo fate tutti? Lo facciamo tutti. E questa è una cosa navigazionale, quando cercate il brand all'interno di Google. E questo è un intento di ricerca specifico, no? Poi c'è l'intento di ricerca informativo. Voi avete bisogno delle informazioni, cercate perché volete le informazioni. E poi c'è quello transazionale, perché avete bisogno di comprare qualche cosa. Ok? Se io cerco un'asciugatrice è transazionale. Poi se la cerco in un determinato modo è sempre più transazionale, perché magari c'è il modello, perché magari già sono un punto in cui la voglio acquistare. Cinque ne rimangono? Devo andare velocissimo. Allora, vi dico quali sono i nuovi obiettivi di Google, e così voi vi fate un'idea in testa. Il viaggio dell'utente, quello che viene chiamato la customer journey, Google lo sta introducendo all'interno delle SERP. Significa che cosa? Significa che quando io devo comprare una macchina, e ancora non so che devo comprare una macchina, inizio a fare delle ricerche. Ma al momento in cui io arrivo a comprare la macchina, sono sempre la stessa persona che ha fatto la ricerca quando ancora non sapeva che doveva comprare la macchina. Ok? Questo viaggio dell'utente, non so che devo comprare la macchina, realizzo che la devo comprare, inizio a cercare la macchina, cerco di capire qual è quella che mi interessa di più, quella che va bene per me, eccetera, eccetera. Fino a quando dico ok, la voglio comprare, ho trovato il modello perfetto, voglio trovare il posto vicino, a casa mia dove devo andare a comprare questa macchina. Il viaggio dell'utente. Tutta questa cosa Google la sta introducendo all'interno delle SERP e questa è una cosa che voi dovete tenere a mente, perché quando scrivete un contenuto potete anticipare quello che farà Google nelle SERP dando la risposta, non approfondendo il contenuto con i link, ma dando la risposta che vorrà l'utente. risposte senza domande. Come fa? Come fa? Eppure ce l'avete già. Chi c'è Android, basta fare così con il cellulare e vi spunta che cosa? Vi spunta è classico dell'italiano, però vi spunta. Vi spunta discover. Discover autoapprendimento. Tu fai così, scrolli a seconda dei contenuti che vedi, Google ti profila e poi quando farai così, qui e là, lui ti darà le risposte senza che tu hai fatto domande. Questo è impressionante, è impressionante. Non più un motore di ricerca ma un motore di risposte direttamente, ok? E poi c'è un modo più visivo, un modo più visivo che significa che Google ha capito che nelle immagini c'è un livello di ricerca che è totalmente differente da quello che c'è in un testo, ok? Perché io se cerco una palla da basket, entro sul motore di ricerca delle immagini e con la vista faccio un controllo che è nettamente differente da quello che io potrei fare con il testo, ok? Perché vado a guardare quali sono le caratteristiche del prodotto che mi interessa di quello che ho cercato all'interno delle immagini. Vado a guardare il colore, vado a guardare come è fatto, se è liscio, se non è liscio, se è grande, se è piccolo, eccetera. Lo vedo a livello di ricerca su un contenuto visivo e Google su questo sta spingendo in una maniera mostruosa, mostruosa, ha già fatto delle app, Google Lens, che tu fotografi le cose e lui ti dice cos'è, ed è impressionante questa cosa, fotografi le cose e ti dice cos'è, ha già sviluppato delle API che all'interno delle immagini ti dice quali sono le entità che ci sono all'interno dell'immagine, sempre 5, 2, ok, ci sono le entità all'interno delle immagini, cioè io posto un'immagine con un cane e lui mi dice che quel cane è un cane di grossa taglia, di piccola taglia, a pelo lungo, a pelo corto, cioè è spaventosa questa cosa, non solo è spaventosa, ma la dobbiamo utilizzare a nostro favore, perché da oggi in poi quando voi farete un post, un contenuto all'interno del web e dovete mettere un'immagine, non mettete un'immagine a caso, mettete un'immagine esplicativa, mettete un'immagine che realmente spiega cosa state dicendo a voi nel post e che realmente possa essere utile perché, come vi ho detto, Google entra all'interno dell'immagine e capisce che cosa c'è all'interno dell'immagine, legge anche il testo che c'è scritto sull'immagine. Se voi fate la prova con l'API di Google, si chiama Google Vision se non mi sbaglio, inserite un'immagine che ha del testo e lui ti dice guarda in questa immagine c'è scritto questo, ed è spaventoso, se noi non lo utilizziamo a nostro favore rimarremo indietro 100 anni. L'ultima cosa è l'intelligenza artificiale. Ovviamente lui tutte queste cose le rende possibili solo, esclusivamente, grazie alle reti neurali che lui utilizza e all'intelligenza artificiale, quindi autoapprendimento, eccetera. L'unica differenza che c'è con il passato è che prima le reti artificiali, l'intelligenza artificiale lui le utilizzava e le reti neurali, però c'era una logica di tipo boleano, 1, 0, vero, falso, 1, 0, vero, falso. Adesso non è più così. Adesso lui utilizza una logica che è un pochettino differente, che si chiama Fuzzi, è scritto F-U-Z-A-I, ok? Che significa che un'informazione può essere parzialmente vera, parzialmente falsa, non più 0,1 ma 0,1, e questo apre degli scenari mostruosi anche questo, perché significa che Google può rispondere alla tua domanda che hai fatto sul suo motore di ricerca, anche se all'interno del testo che ti dà per risposta non c'è scritto quello che tu hai scritto nella tua query, quindi nella tua domanda. Perché fa questo? Perché capisce le entità che ci sono all'interno di ogni singola parola, all'interno di ogni singola immagine, quindi da oggi in poi quando voi creerete un contenuto pensate a tutto quello che vi ho detto in questo momento, questo per me è una specie di 15 minuti veloce dove vi devo dare più informazioni possibili rispetto a questo argomento e questa è l'evoluzione di Google, non è più quanto faccio un contenuto ma guarda fallo mille parole, ti assicuro che sei posizionato, metti che cosa ti devi posizionare su Scarpe Rosse, scrivi Scarpe Rosse ovunque, ti faccio vedere che due giorni e sei posizionato, assolutamente no, quello ad oggi è semplice spam, non serve più a niente, a niente, potreste posizionarvi anche se, cioè potreste riuscire a ottenere visibilità anche se l'utente non scrive Scarpe Rosse ma voi vi siete, avete ottimizzato quel contenuto per Scarpe Rosse in modo giusto è corretto, stop, 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 tutto quello che vi ho detto lo potete vedere qua, ho realizzato un video, l'ho messo sul canale, quindi se volete riguardare prima che andrà su WordPress TV, se ci andrà, potete guardarlo qua, quindi fate la foto a questo se volete, se vi è interessato e basta, ho finito